Dal Movimento 5 Stelle, intanto, Di Maio torna a definire una sciocchezza le ipotesi di alleanza col Carroccio. Eppure restano i punti in comune, le critiche al governo sui migranti, banche ed Europa. Il Movimento però frena sul referendum per uscire dall'euro. Sarebbe solo l'extrema razio, spiega Di Maio. Bisogna prima provare a ridiscutere punti come il fiscal compact e gli euro bond. La nostra linea economica è sempre chiara, coerente e orientata agli italiani. Il referendum sull'euro è parte di un percorso che prevede soprattutto il superamento dei vincoli e del fiscal compact. Perché siamo per un'Europa che aiuti i cittadini e non semplicemente la finanza o i banchieri di turno.